Signori, eccoci tornati con un nuovo video, ovviamente video esclusivo, questo qua è un video speciale perché come ogni anno andiamo ad aprire la nostra calza, aspettate un attimo che la recupero, eccola qua, la nostra calza per l'epifania di questo 2024, ovviamente con un giorno di anticipo come facciamo Space for Last, forse l'anno scorso l'abbiamo fatto il 6 gennaio, però non fa niente ragazzi, oggi lo facciamo con una giornata di anticipo, non ci cambia assolutamente nulla, comunque guardate com'è bella la calza dell'anno nuovo con la maglietta ovviamente azzurra con lo scudetto sopra, sappiamo ovviamente i casini a cui stiamo andando incontro quest'anno, ma questo qua è un video ovviamente diciamo che ci deve fare soltanto divertire, poi le cose serie le lasciamo in altri contenuti. Allora guardate quanto è bella questa calza, guardate come ogni anno, sempre ovviamente con la maglietta, tra l'altro maglietta che trovate anche in versione bianca, se ho visto bene. Allora andiamo subito a questo punto ad aprire, armiamoci del nostro taglierino perché ovviamente c'è il blocco che altrimenti tutti quanti potrebbero prendere le cose dall'interno. Andiamo ad aprire la nostra calza e vediamo che cosa c'è dentro, allora ecco qua, vediamo un poco, ci sono addirittura, boom sta cadendo tutto, ci sono tre, aspettate, ecco qua, ce l'abbiamo fatto, c'erano tre blocchi che chiudevano ovviamente. Allora, allora, vediamo, la prima cosa che ci viene incontro, aspettate un pochino perché voglio aprire bene tutto qua, allora, un bel maistaz, sono, ah, dei biscotti al cioccolato, buonissimi, biscotti al cioccolato, perfetto per la colazione, questo di domani mattina. Poi andiamo avanti, vediamo un poco, caramelle, caramelle cioccolatini, aspettate un po', caramelle, caramelle gommose, eccole qua, caramelle gommose, buone, che è sta cosa? Aspettate un attimo, no, non ci credo, non ci posso credere, ragazzi guardate che cosa è uscito dalla calza, la figurina di Samarzic, potrebbe essere un augurio, probabilmente, incredibile, è uscito Samarzic dalla calza, ragazzi, incredibile, chissà, chissà se possa essere una, incredibile perché poi era sigillata la calza, eh, roba, roba mai vista, vabbè, andiamo avanti, incredibile, e ci esce Samarzic dalla calza, incredibile. Altre caramelle, ovviamente, gommose, non ci posso pensare a quello che ho visto, è uscito Samarzic dalla calza, questa è una cosa che devo raccontare, questa è una cosa che devo raccontare, appena finiamo questo video, altre caramelle gommose, le faccio vedere qua, eccole qua, andiamo avanti, ci hanno riempito di caramelle gommose, incredibile. Guardate qua, d'altro si sente, è pieno di caramelle, è pieno di caramelle gommose, incredibile, ancora altre caramelle, guardate qua, aspettate perché c'è uscito anche un bounty, questo è buonissimo, questo qua è tanta roba, eh, questo qua, già all'epoca, faceva scalpore. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti, altro cioccolato, in questo caso, ah, un bel Twix, eccolo qua, anche questo, alto livello, questo finisce in pochi secondi, e anche uno sneakers, questo è pure altissimo livello qua, è roba che si consuma subito, andiamo, un'altra volta, ragazzi, un'altra volta, sento carta, aspettate un attimo, prima che mi impiglio la maglia qua dentro, sto capendo, incredibile, ragazzi, è uscito anche Dragusin. Non ci posso credere, non ci posso credere, a quello che sto vedendo, a quello che sto vedendo stamattina in questa registrazione, incredibili, ci sono usciti Samar, Zicce e Dragusin da dentro la calza della bella, a questo punto vediamo, è ancora lunga, però a questo punto vediamo se, se ci sarà qualche altro giocatore, però già questi due, secondo me, secondo me già questi due sarebbero un buon colpo, eh, un buon colpo, però incredibile, incredibile, incredibile quello che sta succedendo stamattina, incredibile, aspettate un attimo, perché qua ho preso diverse cose, caramelle gommose ancora, un'altra caramella gommosa, un Twix, aspettate un po', andiamo avanti, prima che si azzecca tutto qua, si azzecca tutto, aspettate un attimo, questi mi chiamano, proprio nel momento ho sbagliato, che io sto con la calza in mano, no, non ci credo, non ci credo, pronto, presidente, buongiorno, presidente, buongiorno, scusi, eh, eh, mi dica, assolutamente no, nessun disturbo, ma quando mai ci mancherebbe, ci mancherebbe altro, ero in trasmissione, stavo facendo una registrazione per, per il canale, sì, stavo facendo una registrazione, tra l'altro, stavo facendo proprio una registrazione dove presentavo la nuova calza del Napoli di quest'anno, col, col logo del, dello scudetto sopra, bella roba, comunque, bella roba, no, comunque non disturba mai, eh, assolutamente, mi dica, sì, ho capito, voleva tranquillizzare un po' la situazione, perché, eh, lo so, lo so, lo so, lo so, eh, no, ha ragione, lo so, le trattative sono complicate, ma lo sappiamo, io lo dico tutte le mattine in trasmissione che le trattative, soprattutto nel periodo invernale, purtroppo, la sessione di mercato invernale è molto complessa da gestire, quindi sappiamo la difficoltà, anzi, le difficoltà che girano, capiamo, capiamo, va bene, cerchete di fare il possibile, vabbè, speriamo, perché, eh, presidente, qua i tifosi, anche io mi metto, ovviamente, con, con i tifosi, siamo un po' preoccupati per questa situazione che sta accadendo quest'anno, dopo, tra l'altro, la bellissima vittoria di pochi mesi fa del campionato, quindi siamo un po' preoccupati, lei ci rassicura? Quindi tutto a posto, va bene, quindi con tutte le difficoltà del caso, va bene, cerchete di, ovviamente, di risolvere la cosa in tempi strettissimi, eh, no, ma infatti, anche perché c'è veramente poco tempo a disposizione, ho capito, va bene, io riferirò, riferirò a tutti i telespettatori, lo farò anche poi nella trasmissione che farò domani mattina, come sempre, eh, cercherò di dare tranquillità, eh, non si preoccupi, presidente, grazie, come sempre, per questa, per questa chiamata esclusiva, tra l'altro, perché, eh, già era successo una cosa poco fa incredibile, vede, eh, giocatori che ci escono dalla calza, roba che non mi aspettavo, ma non mi aspettavo assolutamente questa incredibile chiamata, la, la precisione del, nel chiamare proprio durante una registrazione incredibile. La ringrazio, presidente, come sempre, gentilissimo, grazie, 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 grazie mille, poi ci aggiorniamo, ci aggiorniamo, grazie, 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 grazie. Buona giornata, buona giornata. incredibile. Tra l'altro non chiama mai nessuno, non chiama mai nessuno, ragazzi, incredibile, non ci posso credere, io non ci posso, questo, questo devo raccontare pure alla regia, perché oggi sto da solo qua, non c'è nessuno, però questa è una roba che la devo raccontare alla regia, appena mi vedo più tardi, con i ragazzi della regia, devo, devo raccontare, incredibile, quello che sta succedendo in questo video, roba che resterà nella storia. Comunque, come avete, avete sentito, a parte, diciamo, questa roba che è uscita dalla calza incredibile, il presidente ha detto, non vi preoccupate, rimetterà la situazione a posto, quindi stiamo tranquilli, cerchiamo di stare tranquilli. Allora, Mars, continuiamo, Mars, anche questi qua che finiscono subito, altri Bounty, Twix, tanta roba, vediamo ancora quanta roba c'è qua dentro, non finisce mai questa calza incredibile, continuano ad uscire altri Twix, tanta cioccolata in questa calza del Napoli, vedete? Faccio vedere così perché altrimenti mi casca tutto, vediamo un po' che altro c'è ancora, ah, anche le monete, aspettate un attimo, guardate qua, anche le monete, le monete, guardate qua, le monete, queste pure buonissime, le monete di cioccolata, poi altri pezzi, ovviamente Twix, sneakers, Mars, vediamo se c'è altro, dovrebbe essere tutto a posto, ok, perfetto. La nostra calza del Napoli è vuota, questa qua poi, molto carina, la andiamo magari ad appendere da qualche parte, là in mezzo, bello perché c'è il logo, c'è anche lo scudetto sopra. Detto questo, ragazzi, io non ho parole di quello che è successo in questa registrazione, tra l'altro di pochi minuti, incredibile, incredibile, quello che è successo in questa registrazione oggi, detto questo, fatevi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutto quello che è successo, se comprete anche voi la calza, tra l'altro guardate qua che è uscito, fatemi sapere se nel caso comprerete anche voi la calza, se usciranno anche a voi questi, Dragusi, guardate là, che precisione, proprio Dragusin, incredibile, Samarzic da dentro la calza del Napoli, incredibile, roba, roba dell'altro mondo. lasciate tanti like, iscrivetevi ovviamente al canale, sostenete questo canale, soprattutto per queste chiamate esclusive, incredibili, non ci posso credere, io vi auguro un buon proseguo di giornata, buona epifania, ovviamente per domani, ma tanto domani ci sentiamo, e ci vediamo con un prossimo contenuto. Ciao ragazzi!